musica 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 non ho mai visto un passione furios perché tu cosa hai alzato me lo spieghi musica è alzato la macchinina qua dai a 5 minuti e 5 secondi pronti? back row best via 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 il giro più largo seguite la strada raga andate a mano cercate di buttare i vostri compagni fuori strada e non sta qui musica 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 ma la mia ma la mia musica 150 Nooo, non lo devo dare un'altra aiuta Cazzo, io indietro Raga, dobbiamo andare Oh, perta cosa Oh, perta Oh, perta Prega Gale che si mangia la strada Diferenze Abbiamo passato nella base aerea, raga Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? In altra parte Vale, non vale, non vale Dai, tagliate Non siamo nemmeno a metà mappara Questi già se ne stanno a moppare qua No, bisogna farlo sul continente dove si può morire, non qua Voglio creare un po' Mi sa che ho perso Ora ci guardate il tipo dietro nel 283 Si spara con un mitrailletto Alla aiuta Con corrente Oh, che pesante con questo Grazie a tutti Un'altra parte No, e c'è un'altra parte